In questo caso Cardinale in gol per l'Agropoli, Martone per il Città di Gragnano a pochi minuti dalla fine del match. Lo scontro salvezza tra Palmese e Città di Scordia si risolve con un pareggio 1-1, punto che serve davvero a poco ad entrambe le formazioni. Mangiarotti per la Palmese e Maimone invece in rete per il Città di Scordia. Squadre di nuovo in campo domenica per la trentunesima giornata con questo programma. Cavese-Leonfortese, Città di Gragnano-Reggio-Calabria, Città di Scordia-Agropoli, Città di Siracusa, Due Torri-Frantese-Noto, Rende-Polisportiva-Sarnese, Sport Club-Marzala-Aversa-Normanna, Vibonese-Gelbison-Vallola-Lucania-Vigor-Lamezia-Roccella. Riposerà la Palmese. Ed anche per questa dodicesima puntata è tutto. Vi ringraziamo di essere stati con noi. La serie di tuttocampo.it torna fra una settimana. Al solito l'invito per chi volesse partecipare in diretta è la possibilità di scrivere all'email serie di tuttocampo chiocciola gmail.com. Ripeto, serie di tuttocampo chiocciola gmail.com. Lì potrete dirci il vostro nome, il vostro cognome, la squadra per la quale ti fate. E ovviamente dandoci un recapito telefonico sarete ricontattati per partecipare in diretta alla trasmissione qui su RCD Live. Intanto un ringraziamento anche a chi ha reso possibile questa trasmissione. A tutti l'appuntamento fra sette giorni su RCD Live per una nuova puntata di la serie di tuttocampo.it. Grazie per averci seguito. A presto.